Io sono felicissimo di questa conclusione e faccio tutti i migliori complimenti alla Consulcesi perché si è dimostrata veramente una società tosta. Riesci a tenere quello che si propone. Tutti i miei colleghi che so che hanno fatto la specialità in quegli anni glielo consiglio vivamente perché in effetti ne vale la pena. Ma guardi, non ci credo ancora, veramente, è stata una esperienza sopranaturale, nel senso che io quando sono stato contattato non avevo una gran speranza. Fino a che non sono stato qua oggi non ci credevo e oggi invece devo ricredermi. Sono stati un team veramente eccezionali, sono stati bravissimi. Ho dato già un elenco fornito di miei colleghi perché secondo me potrebbero fare qualcosa di più rispetto a tante altre organizzazioni che ci hanno contattato. È andato al di là delle mie più erose aspettative.